Nemmeno il tempo di celebrare il ritorno alla gestione democratica del comune di Pizzo dopo il periodo di commissarimento ed ecco che la provincia di Viva Valencia deve subito subire il peso di un nuovo comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Proprio ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Soriano Calabro per appressanti condizionamenti della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'attività comunale. Questo quanto scritto nella motivazione. Scatta quindi l'affinamento per un periodo di 18 mesi della gestione del comune ad una commissione straordinaria. Il comune di Soriano Calabro era guidato dal maggio del 2019 dal sindaco Vincenzo Bartone, medico esponente di Forza Italia e tornato alla guida del suo comune per la terza volta dopo un periodo in cui la gestione era passata all'altro schieramento politico. La commissione di accesso agli atti del comune di Soriano era stata inviata dal prefetto Roberto Lulli nell'agosto dello scorso anno. La loro relazione è stata quindi consegnata ed il prefetto ha chiesto quindi lo scioglimento degli organi elettivi del comune al Ministro dell'Interno che sia incaricata di portare la proposta di scioglimento in Consiglio dei Ministri. C'è da ricordare che gli organi elettivi del comune di Soriano Calabro erano stati sciolti una prima volta per infiltrazioni mafiose già nel gennaio del 2007, ma all'epoca non era sindaco Vincenzo Bartone.